Ciao a tutti inizierati a cambi live e benvenuti in un nuovo video del canale oggi andremo a vedere delle splendide immagini di una salita la linea dei sogni 8 cpu avverto intro ed iniziamo oggi vediamo la salita di enrico cassol ripreso dal fratello regista e attore lorenzo cassol che ringrazio per le immagini mentre sale la linea dei sogni 8 cpu liberata da lucca zardini canon nel 2009 un allungamento di sogni di gloria mitica e storica via liberata da gerardo rager nell'ormai lontano 1987 una via che fin dagli anni 80 ha sicuramente segnato la rampicata sportiva in italia e aderto con uno dei primi itinerari fortemente strappiombanti che fanno ancora oggi di sogni un 8 cpu di puro riferimento dell'ormai storia che fa l'esile del uno dei tanti ora uno dei tanti lo per Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.